Il pareggio casalingo del Catania evidenzia l'ottima prestazione anche in soli dieci uomini e mette d'accordo entrambe le tifoserie. Una legge non scritta del calcio che in dieci a volte si gioca meglio che in undici. Una partita forse falsata da un'esagerazione dell'arbi all'inizio però alla fine il Catania ha dimostrato di essere una squadra ben messa in campo. Coriace, Cagliarda e forse corsene poi due punti che vengono a mancare alla classifica, peccato. Un'ottima prestazione, un punto sicuramente che ci sta anche stretto visto come era andata la partita. Si poteva forse anche vincerla ma comunque va bene così. Le scelte di Maran soprattutto per quanto riguarda la seconda sostituzione. Sì sì, Maran è un ottimo allenatore, sta facendo molto bene secondo me, ha inquadrato bene la squadra. Sono fiducioso per il proseguimento della stagione. I cambi ci stanno, la sostituzione di Bariendos pure perché non ha la gamba per fare il raccordo tra attacco e difesa. Squadra eccezionale, cambi eccezionali, dobbiamo ringraziare 11 leone, effettivamente bene, bravo Maran. Io mi congratulo con lui, ha fatto una gran partita il giocatore e lui. Le sostituzioni, scelte al momento giusto? Giusto, 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 perché è Bariendos, lo faccio, quello che faccio, in porta non potevamo arrivare, ci è stato bene, molto ma molto bene, 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 bene. Un pronostico con l'Atalanta. Con l'Atalanta dobbiamo vincere, con l'Atalanta dobbiamo vincere, non ci sono dubbi. Fai vedere la sciarpa anche perché questo significa e simboleggia soprattutto l'unione tra le due tifoserie. Esatto, un grandissimo gemellaggio, un bellissimo gemellaggio. Possiamo dire a questo punto soddisfatta la prestazione del Napoli? Sì sì, molto soddisfatta. Meritato questo pareggio da entrambe le parti o forse qualcuno meritava di più? No, sono contenta così. Ha meritato anche di vincere perché le occasioni che aveva sono state sprecate. Secondo lei la scelta della sostituzione di Barrientos e quindi dopo poi Almiron? Ma diciamo che è una scelta tattica, quindi era necessaria non smilanciare la squadra, quindi era necessario che Barrientos andava fuori. Sempre fratelli con i catanesi, sempre ospitati in maniera perfetta, non fa niente, ci siamo divisi in questo punto. Eh vabbè, l'importante è che siamo gemellati con i fratelli catanesi e quindi è stata una bella festa sugli spalti. Possiamo essere soddisfatti e la prova di entrambe le squadre? Ma più del Catania direi, il Napoli si è un po' deluso. Questa espulsione di Alvarez è stata una doccia fredda che però probabilmente ha fatto più male al Napoli che a noi perché loro sono stati condizionati. Stai parlando troppo serio? No, fermatemi perché se parlo troppo di calcio poi la gente non ci crede che sono io. Io sono Sevilla Digne. Che maronna, una moda, una tre punti, cioè potessero lasciarsi o no? Voi siete catanesi, una volta sola, giusto per Svizio, poi ce lo va, per Svizio ci porta i tre punti a Catania. E vabbè dai, lasciamo questo gemellaggio comunque in parità. Lasciamo questo gemellaggio in parità, come sempre, dai. Forza Catania, sempre! Forza Catania, sempre! Avevo un tocone, avevo!